Ciao a tutti, oggi vi presento un coltello della Fox Nikes Military Division, si tratta del Fox Tracker, eccolo qua, è un coltello da 8 pollici di lama in N690CO, in pratica è la riedizione in chiave moderna del Kukri, il tipico coltello dei soldati Gurkha nepalesi, e vediamo adesso come va a lavorare su chopping e battling. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.